Greenpast base con vaccinazione, guarigione o tampone dal 20 gennaio esteso a chi accede ai servizi alla persona, parrucchieri, estetiste e barbieri. Dal 1 febbraio anche per accedere ai servizi pubblici, uffici postali, bancari, finanziari e alle altre attività commerciali, fatta eccezione per quelle considerate essenziali come farmacie e generi alimentari. I commercianti del capoluogo si dicono soddisfatti del provvedimento in cui vedono un rafforzamento della sicurezza e la possibilità di combattere il virus. Io penso che sia una cosa giusta, già effettuato da giorni appena abbiamo riaperto e tutti quanti io appena entrano gli chiedo gentilmente di mostrare il Greenpass, io verifico e poi tutto a posto. Uno solo è andato via, gli altri tutti quanti sì eccoci qua e tutti con il Greenpass. Il cliente che a volte io lo vedo quando vado magari al bar, le cose fanno fatica a richiedertelo più volte quando il cliente magari è fisso e va sempre in quell'attività. Però se queste sono le regole vanno rispettate. Visto che a breve entrerà in vigore obbligatoriamente mi scaricherà l'app. Adesso fa parte della nostra vita quotidiana questo Greenpass e quindi mi sembra anche ovvio doverlo controllare sperando che passi il prima possibile questa situazione. Questo momento serve, serve a tutti quindi non credo che cambierà molto. Sono soltanto quei cinque minuti o i primi minuti tra saluto e buongiorno che esibiranno il loro Greenpass per poter entrare. Chi non ce l'ha cercherò di servirlo senza farlo entrare in negozio. In qualche modo si farà perché poi c'è sempre il problema di chi non ce l'ha e di chi ha deciso di comunque non fare il vaccino. A quel punto lo servirò sulla porta. Magari mi dirà quello di cui ha bisogno e si verrà incontro un po' a tutti. Qualcuno però denuncia il susseguirsi dei provvedimenti che creano confusione e generano il ritardo nelle soluzioni. Penso che sia una cosa buona come pensata, difficile come attuazione. E non sono partiti dall'inizio con una direttiva chiara come tipo vaccino obbligatorio per tutti. A quest'ora non staremmo con queste problematiche che ha creato difficoltà ai clienti, agli operatori, a tutti quanti. Per noi è un attimo qua, abbiamo abbastanza spazio, abbastanza aria, quindi controllare per un attimo che prendano un bacchetto di sigarette in cinque secondi. Lo faremo, se ci obbliamo a farlo, lo faremo e ritorno con grosse difficoltà a chi sta lavorando per tirare avanti la baracca.